doppio cognome a un figlio a pesero il primo caso dopo la consulta via la stagione balneare stop ai distanziamenti fra ombrelloni porto aspettando il dragaggio arriva all'isola ecologica per la pesca primo maggio la guerra pesa sulla festa dei lavoratori segnalazioni parco comunale trasformato in giungla di vegetazione una buona serata tutti voi amici telespettatori e amiche telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale di rossini tv che in questa edizione di venerdì 29 aprile apriamo con una notizia che arriva dal tribunale di pesero e che oggi fa giurisprudenza a livello nazionale proprio da pesero infatti è arrivata la prima decisione di un tribunale in italia per quel che riguarda l'assegnazione del cognome materno al figlio minorenne dopo la pronuncia della corte costituzionale che nei giorni scorsi ha sancito la possibilità a livello italiano del doppio cognome il tribunale con provvedimento emesso ieri e depositato oggi ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati andrea nobili e bernardo becci dello studio nbbz di ancona per quello che riguarda la madre di un minore che chiedeva il riconoscimento anche del cognome materno al figlio nonostante l'opposizione del padre ed ora vi ricordiamo le ultime novità ministeriali che partono da domenica primo maggio e che fanno decadere l'obbligo di green pass in tanti luoghi della nostra quotidianità da domenica non sarà più richiesto il green pass ad esempio per accedere a bar ristoranti stadi o eventi all'aperto così come non servirà più il green pass rafforzato per accedere a palestre piscine cinema teatri discotechi e o per partecipare a cerimonio convegni viene invece prorogato fino al 15 giugno l'obbligo di indossare le mascherine ffp2 per l'accesso ai mezzi di trasporto a cinema e teatro locali di intrattenimento e musica dal vivo nonché eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso e domani sabato 30 aprile inizia ufficialmente la stagione balneare nella regione marche c'è infatti l'ok dell'arpan per quello che riguarda la qualità delle acque così come c'è l'ok per cominciare ad affittare lettini e ombrelloni anche se le temperature non sono ancora propriamente estive vediamo in questo servizio novità e criticità per quello che riguarda la categoria dei bagnini domani sabato 30 aprile parte ufficialmente la stagione balneare sulla regione marche e questa la data designata dall'amministrazione regionale in base alle analisi chimiche scientifiche sulle acque effettuate dall'arpam acque di alta qualità e dunque si può fare il bagno da domani naturalmente le temperature non sono proprio delle più agevoli anche se c'è chi già un bagno se l'è consentito oggi e da domani è possibile cominciare l'allestimento degli stabilimenti balneari appaiono i primi lettini davvero pochi perché ancora la stagione è lontana dal partire per quello che riguarda gli stabilimenti tanti preparativi in corso tante novità per quella che è una stagione che ha il sapore della ripartenza tra distanziamento che viene abbattuto tra gli ombrelloni e tra altre problematiche come quelle dei ripascimenti tematiche che abbiamo analizzato con il presidente di cna nazionale balneari sabina cardinali nonché titolare di bagnitino il 30 aprile inizia la stagione balneare quindi possiamo affittare lettini e ombrelloni anche se con queste temperature ancora basta un lettino e un appoggio siamo carichi siamo pronti a una nuova stagione anche questa volta più serena grazie ai vaccini grazie comunque a una situazione covide stabilizzata molte misure che vengono tolte e compreso il distanziamento fra gli ombrelloni infatti tutti chiedono ma quest'anno come saremo come non saremo la regione marche ha dato possibilità comunque di togliere così come la legge a livello nazionale questo distanziamento che era previsto questo distanziamento minimo anche se molti operatori balneari come anche noi stessi e andremo a mantenerlo per tutta la stagione 2022 ecco il distanziamento che viene tolto però c'è poi il lato dei ripascimenti che invece creano un'altra problematica sì perché comunque c'è ancora un discorso di erosione in atto e questa questa erosione fa sì che vengano ci siano meno posti in spiaggia con la ripresa del turismo con l'aumento del dei turisti dei vacanzieri abbiamo bisogno di dare una disponibilità di posti di ombrelloni che specie qui sul lato di ponente è più ridotta sia più difficoltà a dare quindi quindi anche questa diminuzione di risorse da parte della regione per i ripascimenti è un problema è un problema da considerare in maniera pesante e dal mare passiamo al vicino porto di pesaro che si avvicina alla bella stagione con la necessità del dragaggio e con la novità di un'isola ecologica destinata allo smaltimento delle plastiche il porto di pesaro si avvicina all'estate fra urgenze non più rimandabili e novità all'insegna della sostenibilità rientra nella prima casistica la necessità di dragaggio i fondali del porto sono ridotti al minimo e si continua a richiedere la possibilità di operazioni di scavo per aumentare pescaggio e profondità un dragaggio reclamato dalla politica con il consigliere regionale andrea biancani che sollecita la regione a interloquire con la nuova autorità portuale del medio adriatico e lo chiede la stessa capitaneria di porto confidando nella nuova presidenza una necessità che si trascina da diversi anni e ormai siamo giunti al momento di dover come si dice prendere il toro per le corna no i fondali in darsera nuova hanno raggiunto minimi storici è arrivato il momento ma i fondi ci sono il nuovo presidente è estremamente attento e dinamico quindi confido che si arrivi in tempi brevi a risolvere il problema aspettando il dragaggio in strada tra due porti nella parte terminale dello scalo si sta allestendo la novità di un'isola ecologica a servizio dei pescatori e all'insegna dell'ecosostenibilità devo dire che questo è un altro lavoro che era iniziato nel 2018 avevo presentato una legge che prevedeva la possibilità di raccogliere soprattutto i materiali plastici che derivavano dalla pesca quindi dei pescatori attualmente i pescatori qualora pesco durante le proprie attività di pesca se raccolgono il materiale plastico lo portano nei porti sono costretti a pagare lo smaltimento e quindi ovviamente sembra uno che deve raccogliere quello che non è legato alla propria produzione sarebbe come si chiedere ai bagnini di dover pagare lo smaltimento delle plastiche che vengono raccolte lungo lungo la riva delle spiagge quindi quest'isola ecologica è un progetto deriva da un progetto sperimentale un accordo fatto tra autorità portuale e capitaneria ovviamente regione marche comune di peggio dei marchi multiservizi e sarà appunto dedicata a tutti quegli operatori che raccolgono il materiale plastico che potranno essere smaltiti all'interno di quest'isola ecologica che sarà con una tessera quindi non tutto non è che sarà una nuova discarica in come dire nel porto dove ognuno potrà arrivare e abbandonare i fiuti e liberamente ma sarà necessario essere riconosciuti cioè essere autorizzati per poter scaricare questo materiale ci sarà anche il presidente della regione marche francesco acquaroli mercoledì 4 maggio a pesero in occasione del consiglio comunale monotematico sulla sanità convocato dall'amministrazione a partire dalle ore 16 politica sanitaria e realizzazione nuovo ospedale e questo il titolo di una seduta consigliare che intende fare chiarezza alla presenza del governatore sugli sviluppi dell'ospedale a muraglia e sulle attuali criticità di san salvatore e guardia medica domenica dunque sarà il primo maggio una festa dei lavoratori che da due anni è adombrata dalla pandemia alla quale si aggiunge quest'anno le ansie delle ripercussioni della guerra in ucraina come confermano le principali sigle sindacali provinciali in questa intervista sarà un primo maggio sicuramente diverso dagli altri anni ancora se vogliamo più preoccupante rispetto a quello che è stato lo scorso anno la pandemia perché c'è c'è una guerra che sta devastando l'Europa e mette in difficoltà appunto anche il lavoro noi pensiamo sempre che il lavoro e pace che è appunto lo slogan dei sigili e le sigili nazionali quest'anno sia un connubio fortissimo non c'è lavoro senza pace e non c'è pace senza lavoro oggi i problemi legati alla guerra in ucraina e anche alla ripartenza del tutto dell'inflazione quindi anche della erosione del potere d'acquisto degli stipendi stanno pagando anche fortemente questa cosa ci sono dei settori che sono in questo momento in forte difficoltà se non nel momento attuale in prospettiva perché sono quei settori che hanno le produzioni che hanno diciamo così un carattere di utilizzo dell'energia molto molto più importante di altri mi riferisco a tutti quelli che hanno ad esempio la necessità di utilizzare dei forni piuttosto che delle delle macchine per lo stampaggio ma non solo quindi il settore del vetro il settore della gomma plastica ma anche tutto quello che riguarda in qualche modo alcuni settori della metalmeccanica in modo particolare che hanno ovviamente delle prospettive di difficoltà importanti ovviamente come si svilupperanno queste cose ancora è un dato abbastanza difficile da poter preventivare un primo maggio sempre sentito perché comunque è una ricorrenza che ci teniamo noi in particolare del sindacato ad onorare quest'anno si farà un concentramento nazionale ad assisi dove appunto parteciperemo sicuramente tutti magari sarà meno ricco di musica e di dibattiti però sarà ecco un luogo sicuramente centrale perché ci ritroviamo tutti a metà strada e come sempre insomma verrà celebrato nel modo più adeguato ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 un residente di borgo santa maria ci ha infatti segnalato la particolare situazione in cui versa un parco comunale di questa frazione rossini tv torna ad accendere le telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori oggi ci troviamo a borgo santa maria in via monterosa dove c'è un parco comunale un'area verde dedicata al tempo libero dedicata ai bambini ma un'area verde sempre meno accessibile perché perché la vegetazione come potete vedere cresce davvero indisturbata guardate dove ci troviamo avvolti praticamente da una giungla urbana la vegetazione cresce rigogliosa cresce come potete notare più alta della recinzione che delimita dalla strada e dunque questo rende tutto poco fruibile in questa situazione la vegetazione che avvolge il cartello che vi abbiamo appena mostrato non è soltanto un caso isolato l'erba i fiori gli arbusti crescono alti indisturbati in ogni angolo di questa area verde che anche piuttosto estesa dunque è un problema diffuso è una dimenticanza trasversale a tutta questa zona è anche periodo di potature di tosature d'erba in questa fase di primavera avanzata si sta lavorando in questo senso sulle aree più centrali e turistiche della città questa è periferia ma non per questo va dimenticata un parco di questo genere può essere un luogo d'aggregazione assolutamente più sfruttabile di come in questo momento viene penalizzato da questa situazione vi ricordiamo come sempre il numero di whatsapp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 per denunciare a Rossini tv altre situazioni come questa il sindaco di borgopace romina pierantoni ha scritto una lettera al presidente della repubblica sergio mattarella per invocare dignità al ruolo dei piccoli comuni dopo che l'ufficio scolastico regionale ha stabilito che per il prossimo anno i nuovi iscritti alla scuola primaria di borgopace vengano trasferiti nelle classi della vicina mercatello sul metauro andando così a sancire in pochi anni la chiusura della scuola a borgopace una lettera dove emerge la voglia di lottare per il futuro del comune ma traspare anche tristezza e rabbia per il ruolo nel quale sono relegati i cittadini di questi piccoli borghi e da scuole che rischiano di chiudere passiamo invece a scuole che si intendono costruire il comune di tavuglia e l'istituto comprensivo giovanni paolo secondo di valle foglia sono infatti al lavoro per allestire un polo dell'infanzia 0 6 anni da realizzare nel territorio comunale tavugliese progetto che è stato illustrato e approvato all'unanimità ieri in consiglio comunale al piano superiore dell'edificio della scuola dell'infanzia nascondino frequentata nell'anno scolastico attuale da 61 bambini si intende infatti collocare anche il micronido la tribù dei piccoli che può accogliere fino a 11 bambini l'obiettivo è dunque quello di un nuovo edificio che concili tutte le fasce d'età da attivare per l'anno scolastico 2023-2024 passiamo a cartoceto che in questi giorni è interessata da massicci interventi di manutenzione stradale distribuiti su tutto il territorio comunale da quelli che hanno interessato via cerreto agli accessi del cimitero di via pieve via cupa così come via valgenga via falarco via guastalda e via ripe sono seguiti poi lavori in messa in sicurezza delle banchine di via metauro delle rampe di via ken di via casello e dell'area parcheggio di via allende e anche in corso l'asfaltatura integrale del tratto stradale posto di fronte alla chiesa di santa pollinare a lucrezia e concludiamo il telegiornale parlando dei nostri amici a quattro zampe lo facciamo con i nostri antonio astuti e giacomo lucchetti accompagnati da giuliet che ci illustrano la seconda edizione di qua la zampa il programma che dal 3 maggio torna su rossini tv con una seconda stagione pronta a tenervi compagnia ogni martedì sera torna qua la zampa su rossini tv a partire da martedì 3 maggio per 7 martedì insieme a giacomo lucchetti e insieme alla sua giuliet saremo qui per raccontarvi e parlarvi di animale jack e la seconda stagione una bella iniziativa l'anno scorso è stata tanto apprezzata quest'anno ci porterai anche tu delle grosse novità sì io ti posso dire che sono contentissimo perché diciamo una un'occasione per me veramente importante per testimonia dare questa forte testimonianza alle problematiche che purtroppo legano il mondo degli animali specialmente nei rifugi e quindi insomma le novità anche quest'anno saranno tantissime veramente sorprese di ogni genere quindi dai teniamo duro insomma teniamo duro davvero è un appuntamento che vi invitiamo a seguire con attenzione e con perseveranza perché le occasioni di divertimento ma non solo saranno tante scopriremo tanti tipi di animali non solo come abbiamo già detto cagnoloni mici ma proprio ogni tipo di animale che è possibile trovare nel nostro territorio con delle situazioni con delle persone davvero straordinarie giacomo assolutamente perché i personaggi che ruotano in mondo al mondo degli animali sono incredibili quindi ne vedremo veramente di belle ne vedremo delle belle anche perché c'è una continua testimonianza di affetto e di davvero buoni sentimenti e crediamo che in questo momento storico ce ne sia davvero tanto bisogno assolutamente e a fronte poi di una situazione che stiamo vivendo così difficile però vedere come le persone continuino a dare il proprio amore agli animali è una cosa che ti apre il cuore quindi bene così non dimentichiamoci quindi a partire da martedì 3 maggio per 7 martedì 7 straordinarie puntate di qua la zampa insieme a jack lucchetti gireremo anche l'italia perché lui va molto a cercare situazioni che non sono solo nel nostro nella nostra provincia ma un pochino dappertutto per esempio giacomo dove sei andato allora abbiamo girato un po nel sud italia e anche centro italia ci sarà una missione molto importante dai diamo una piccola chicca dove giungeremo fino alla sicilia quindi un qualcosa di molto molto forte porteremo proprio agli occhi dell'opinione pubblica determinate tematiche quindi sarà un qualcosa che ancora più forte rispetto alle testimonianze che abbiamo dato nella precedente edizione e poi è un'annata comunque già particolarmente bella per i nostri motori per i motori italiani e chissà che non ci siano anche sorprese in questo campo vero jack si ci saranno ci saranno e niente ancora non svegliamo niente però diciamo solo che abbiamo messo il mondo delle moto al servizio e in aiuto degli animali bisognosi quindi amiche amici di rossini tv non dimenticatevi a partire da martedì 3 maggio ogni martedì alle 21 e 20 per 7 martedì qua la zampa torna insieme a me e insieme a giacomo lucchetti e ricordiamoci che la vita non si compra ma si adotta si conclude qui il nostro telegiornale rossini news ma non si conclude lo spazio con l'informazione di rossini tv perché alle 20 come ogni venerdì c'è il valle foglia e pian del brusco lo magazine condotto da edoardo orazzi che vi tiene compagnia alle 20 con la prima edizione e alle 23 e 15 con la prima delle repliche la prima serata di questa sera invece dedicata a un nuovo format che vi terrà compagnia per alcuni venerdì si tratta di discovery market appunto discovery come la scoperta della nostra regione alcuni luoghi che verranno svelati in questo programma che comincia alle 21 e 20 e che in questa prima puntata ci porta alla scoperta delle terre del gentile e della valle del cesano e poi vi ricordiamo naturalmente la rassegna stampa del sabato buongiorno rossini che per questa edizione del 30 aprile sarà condotta come sempre in diretta dalle 7 e 20 dal nostro antonio astuti altra diretta ma di altro genere quella con la santa messa di consacrazione episcopale e inizio ministero di monsignor sandro salvucci il nuovo arcivescovo di pesaro dunque si insedia in duomo e trasmetteremo la santa messa in diretta su rossini tv alle 16 non più alle 16 30 come vi abbiamo comunicato nelle scorse edizioni c'è stata infatti una variazione e dunque l'appuntamento è domenica primo maggio alle ore 16 e infine come vi abbiamo anticipato nel nostro telegiornale torna qua la zampa torna la seconda edizione del programma dedicato agli amici a quattro zampe con giacomo jack lucchetti e la sua juliet che vedete in grafica un programma che vi terrà compagnia tutti i martedì alle 21 e 20 a cominciare da proprio dal prossimo martedì 3 maggio non perdetevi dunque qua la zampa su rossini tv e dunque con questi appuntamenti si conclude questa edizione di rossini news ora ci sono le previsioni del tempo a me non resta altro che salutarvi augurarvi un buon weekend e un buon primo di maggio in compagnia dei nostri programmi